La Guardia di Finanza ha messo a nudo un presunto giro di episodi di truffa e corruzione per la percezione di fondi europei, in cui risultano coinvolti anche alcuni funzionari regionali. 22 le misure cautelari, 10 ai domiciliari e 12 di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, applicate dal GIP di Palermo su richiesta della Procura dell'Unione Europea. A questo si aggiunge anche il sequestro preventivo di 2 milioni e mezzo di euro. L'operazione l'hanno chiamata Amici miei atto secondo, in quanto collegata a una precedente analoga inchiesta, ma qui delle goliardiche zingarate dei personaggi dell'omonimo film di Mario Monicelli sembra esserci solo il retrogusto amaro della vicenda. Secondo l'accusa, i fondi europei destinati all'azienda per lo svolgimento delle attività sarebbero stati percepiti irregolarmente, e in questo contesto si inserisce l'operato dei funzionari pubblici che avrebbero omesso di controllare i requisiti e l'attribuzione dei punteggi per l'ammissione al contributo delle domande di finanziamento. Nella fase di rendicondazione, inoltre, sarebbero state rallentate in modo illecite le procedure di collaudo e controllo, così da evitare l'applicazione di penali quali la decadenza o la revoca dei contributi già erogati. Associazione a delinquere, corruzione, truffa, abuso d'ufficio, falso, distruzione, occultamento di atti e rivelazione di segreto d'ufficio, i reati contestati a vario titolo. I domiciliari sono stati disposti per Ciro Spinella, 67 anni, agronomo, Riccardo Puccio, 48 anni, ingegnere, Francesco Sclafani, 73 anni, ingegnere, Antonio Barcia, 45 anni, agronomo, tutti di Marineo, e ancora Giuseppe Salerno, 63 anni, di Gangi, funzionario Uia delle Petralie, Giovanni Burriesci, 58 anni, di Mezzo Iuso, funzionario Uia Misilmeri, i funzionari dell'IPA di Palermo, Maria Spata, 60 anni, di Bagheria, Carlo Alfano, 63 anni, di Palermo, Giuseppe Vitale, 58 anni, di Palermo, Giuseppe Africano, di 50 anni, di Bagheria, e infine l'imprenditore agricolo di Santa Flavia, Giovanni Scaduto, di 62 anni.